L'amministrazione comunale di Scaletta Zanclea è in cerca di otto nuovi alloggi da destinare ai soggetti bisognosi. Vediamo di cosa si tratta. L'amministrazione comunale di Scaletta Zanclea è alla ricerca di otto case già realizzate da privati e immediatamente disponibili al fine di concorrere alla selezione dell'assessorato regionale alle infrastrutture della mobilità, il cui obiettivo è mirato a migliorare l'offerta di alloggi da destinare a soggetti bisognosi. Il riferimento va ai nuclei familiari a giovani coppie a basso reddito, anziani condizioni sociali o economiche svantaggiate, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e così via. Il prezzo di ogni alloggio non potrà superare 900 euro al metro quadrato, che risulta essere un valore congruo stimato dall'ufficio tecnico comunale in linea con i principi e le disponibilità dell'avviso pubblico dell'assessorato regionale. Gli alloggi devono essere dotati di regolare concessione edilizia e certificato di abitabilità, non devono aver bisogno di interventi di manutenzione e devono possedere requisiti minimi per consentire l'eventuale abbattimento delle barriere architettoniche. L'ente municipale acquisirà le offerte, il comune nominerà una commissione ad hoc per formare la graduatoria e avanzerà la proposta di acquista all'assessorato regionale. L'importo massimo dovrà essere contenuto entro 750 mila euro per tutti e 8 gli alloggi. I soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare stanza verso l'ufficio protocollo del comune. L'ultima parola per l'erogazione del contributo spetterà comunque alla commissione regionale, che valuterà le proposte dei varienti e terrà conto della data di rilascio del certificato di abitabilità degli alloggi, della presenza di dispositivi per il risparmio energetico e idrico, del ribasso d'asta e del cofinanziamento dell'ente proponente. Le offerte presentate dai soggetti svantaggiati richiedenti l'alloggio dovranno essere accompagnate da specifiche stanza che abbia come riferimento l'avviso pubblico regionale e dovranno essere consegnate in plico chiuso. Ciò dovrà avvenire entro mezzogiorno del trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso regionale all'albo pretorio avvenuta il 30 gennaio scorso. A Scaletta c'è grande attesa, soprattutto tra le giovani coppie che sognano di realizzare il sogno di possedere una casa, ma anche tra i nuclei familiari che si trovano in grave difficoltà economica e sono sempre di più. Un SOS sul consorzio universitario di Furcisiculo arriva dall'ex consigliere provinciale dell'Udc. Grazie.